ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale come sempre grazie che lasciato la e che si è iscritto al canale per chi non l'avesse ancora fatto link in descrizione finalmente dopo due settimane di pioggia è uscito un po di sole dunque oggi ho deciso che voglio provare la mia grava bike nel bagnasciuga lungo le coste appunto di olandesi dunque negli ultimi periodi sono andate molto in voga queste beach race che sono delle gare che vengono fatte nel bagnasciuga un modo alternativo sicuramente di preparare la stagione invernale perciò oggi ho deciso che voglio provare anch'io la mia grava bike nel bagnasciuga ovviamente anche oggi ci divertiremo dunque via con la sigla e iniziamo ciao 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 passaggio a livello chiuso perché siamo fortunati ma è già aperto i passaggi a livello durano veramente poco tempo che il treno passa e si alzano quanto vento non ci sono Sì, è vero. Alla prossima Non ci saranno le montagne ragazzi però devo dire che in fatto di natura e boschi l'Olanda si difende veramente bene Guardate che colori ovviamente non c'è quasi nessuno qua perciò non c'è pericolo di scontrarsi con altri biker E i colori dell'autunno secondo me rimangono tra i migliori A quanto pare siamo arrivati? Siamo arrivati Sei pronta per ronare? Certo E adesso siamo arrivati al punto in cui facciamo le riprese fighe Come vedete è pieno di gente qua al mare Però nessun problema perché noi abbiamo il drone Ovviamente per arrivare nel bagno asciuga Pici in mano e si cammina In verità prima ho provato a pedalare dall'inizio della spiaggia al bagno asciuga E ragazzi a 450-500 watt era difficile stare in piedi Mi chiedo come il buon vecchio Matteo van der Po e Vaud facciano quelle menate sulla sabbia che è anche per la mossa Però come potete vedere qua è incredibile Siamo arrivati all'inizio Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.